e niente buongiorno a tutti ragazzi io vi ringrazio per gli auguri e niente io vi ringrazio non so che dire sono molto contento e niente io ringrazio chi mi ha scritto ringrazio chi mi scriverà ringrazio ringrazio tutti e niente adesso insomma c'è un po fame e vedrò di una fa due bucatini una baiata